Ritornano anche questa settimana i nostri consigli di lettura. Vi parliamo di un libro molto interessante che parla di integrazione sociale e lavorativa, una storia possibile, la definirei. Ne parliamo con il suo ideatore. Il libro si intitola, partiamo dal titolo di questo libro, Il coraggio di essere uguali, l'impresa diversamente automatica di Chico Cotto, edizioni Terra Santa, la prefazione del libro è di Gian Antonio Stella, scritto da Don Andrea Bonsignori con Marco Ferrando. Ciao Don Andrea e benvenuto. Ciao, ciao, buone giorni a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito, perché parliamo di un'avventura che poi ha anche valicato i confini territoriali del Piemonte, nata in una sala relax della Scuola del Cottolengo di Torino. tu sei pedagogista e dirige appunto da oltre dieci anni questa scuola. Tutto è nato in una sala relax. Come e perché? Raccontalo tu. Sì, guarda, direi che prima di tutto tutto nasce, non sono io l'ideatore di questa idea, ma è proprio Giuseppe Cottolengo, perché tutto nasce semplicemente dal coraggio di dare a ciascuno la propria dignità. E quindi su questa scia, che quindi è molto più antica, diciamo, della Chico Cotto, abbiamo deciso di fare che cosa? La cosa più semplice del mondo, una volta si diceva l'uovo di Colombo, ovvero sia abbiamo deciso di far lavorare i ragazzi secondo le loro qualità. In questa sala relax c'era una classica macchinetta del caffè e della distribuzione delle bibite, che conosciamo tutti, che vediamo in giro per stazioni o aeroporti, e chi se non i ragazzi, in questo caso con disturbi dello spettro autistico, erano migliori nel mettere tutto in ordine, perché è una delle loro caratteristiche. E quindi in questa caratteristica, diciamo loro clamorosa, hanno iniziato a mettere a posto le macchinette. Erano bravi, sono bravi, e quindi abbiamo deciso perché non lanciarci noi in questa avventura imprenditoriale di dignità, semplicemente perché sono più bravi. Mi ha colpito una parte del libro in cui racconti il fatto che qualcuno vi abbia dati per spacciati dall'inizio, che abbia addirittura detto con i ragazzi handicappati non durerete pochi mesi, e poi invece è successo l'impensabile, anzi avete comprato da chi vi aveva dato per spacciati le macchinette distributori automatici. Sì, vedi, io sono felice e onorato di essere in questo canale, perché penso alla durezza in realtà meravigliosa e libera di Padre Pio. Ed è la stessa cosa, cioè purtroppo ci troviamo di fronte a un mondo che apparentemente accetta quelle che sono le diversità o le fatiche, ma sempre e solo si pone in una posizione di superiorità. Nel momento in cui noi abbiamo iniziato a gareggiare normalmente nell'imprenditoria, beh, ci siamo stati tacciati di essere scorretti, cioè di utilizzare l'handicap dei nostri ragazzi per ottenere degli appalti, quindi una concorrenza sleale. Non è così, abbiamo semplicemente portato una paridignità a tutti, ma questo ci ha visto essere sotto attacco. Sotto attacco a volte commerciale, a volte, come dicevi tu, è stato un attacco proprio idealista, dove delle persone ci hanno detto, ah, voi vi schianterete nel giro di nulla, perché questi non sono buoni a nulla. E non ti nego, e vabbè, ci faremo un po' di giorni di purgatorio, che insomma non siamo stati proprio così dispiaciuti quando siamo andati lì a degli esenti, facciamo così, visto che la vostra azienda si sta schiantando, ve la compriamo noi. Pensa, pensa un po'. Mi ha colpito il titolo, il coraggio di essere uguali. A mio modesto parere, il coraggio di essere audaci, il coraggio di aver creduto in questi ragazzi, anche il coraggio di essere folli, anche un po' pazzi. Don Andrea, tu danni sei accanto a chi si occupa di handicap, a chi si occupa di ragazzi autistici. Tu stesso sei socio fondatore e componente del consiglio di amministratore della Fondazione Italiana per l'autismo, quindi bisogna essere un po' pazzi per lanciarsi in queste avventure. Quindi non il coraggio di essere uguali, ma audaci, oserei dire. Guarda, in realtà, spoiler, ma mi auguro che questo non eviti il fatto che il libro venga acquistato, anche perché tutti i proventi ovviamente vanno per i nostri ragazzi. In realtà, ti spoilerò il titolo, il coraggio di essere uguali non è legato ai nostri ragazzi che hanno avuto la follia di provare ad essere uguali agli altri, ma è legato a noi. Il problema è che c'è un capitolo che racconta anche dell'attività sportiva che noi abbiamo in questo mondo, è il fatto che siamo noi che non abbiamo il coraggio di renderci uguali. Siamo noi che pensiamo di essere superiori a qualcun altro e invece ci vorrebbe tanto coraggio oggi nel ritenerci tutti uguali e lo vediamo anche dalle cronache del mondo. La follia, diciamo, è un po' la caratteristica anche del Cottoengo e quindi bisognava essere un po' folli per andare a smontare quella che è un falso storico, cioè che ci sia qualcuno più uguale di qualcun altro. E poi, talmente folli, perché il libro appunto è una sorta di diario della vostra avventura, appunto si parla anche di sport, si parla dell'ultima nata del gruppo e avete avuto anche l'ardire di, tra virgolette, sfidare un colosso delle bevande gassate dal colore scuro e avete creato una cola a chilometro zero, molecola, che ha al suo interno proprio tutta una storia come partendo proprio da mole, come la mole antonegliana. Sì, in realtà molecola esisteva già, ci siamo trovati, perché poi il bene si trova, si incontra e quindi molecola che cosa fa? Molecola fa una cosa meravigliosa, oltre a fare una bibita, insomma, fa commercio, ma tutti quelli che sono i suoi proventi vanno a finanziare la coltivazione della cola che tu devi sapere è sotto scacco di quest'altra multinazionale che tu hai accennato e che non permette quindi che i lavoratori abbiano un giusto salario e un giusto lavoro, vengono sfruttati. Ecco, molecola cerca in qualche modo di andare contro tutto questo e quindi è stato un binomio anche qui vincente, è stato facilissimo trovarci insieme a loro, creare insieme questa realtà e provare, insomma, a dire la nostra, perché il bene non va tacciuto, c'era quel vecchio ritornello che diceva fa più rumore, ovviamente l'albero che cade, che non la foresta che cresce, però la foresta cresce, piano piano e cerchiamo di, come dire, far sì che continui a crescere. Ne ricordiamo uno e per coinvolgerli tutti, mi ricordi il nome del primo ragazzo che avete lanciato in questo progetto, in questa avventura? Guarda, sono diversi, farei torto a citarne uno, però penso a Giuseppe che è il primo, che anche grazie alla sua famiglia ha avuto il coraggio, penso però anche ad esempio a Edo che è un po' nel libro il protagonista di questo diario, la persona a cui mi rivolgo quando facciamo anche a volte delle meditazioni anche faticose, perché questo coraggio costa, costa anche tanto in alcuni momenti. Progetti per il futuro? Cosa volete fare da grandi, Don Andrea? Diventare grandi. L'ultimo capitolo in realtà sarà il primo, noi ci auguriamo, di una nuova avventura, cioè questo nostro coraggio ha fatto sì di arrivare a sottrarre un importante appalto per le macchinette alla più grossa multinazionale esistente in Europa, i quali sono arrivati e ci hanno, come si fa normalmente, ci hanno proposto di essere acquisiti. Con quella follia che tu dicevi noi gli abbiamo risposto che non avevano capito che li avremmo acquisiti noi nel giro di qualche anno. Ovviamente questa cosa ha stupito il loro grande manager e in realtà ne è nata un'unione. Hanno capito, devo dire, la bontà di questo progetto e quindi dal primo di gennaio, quindi notizia davvero di pochi giorni, abbiamo costituito una nuova realtà che si chiama Breccotto, ovviamente il cotto, sappiamo, il riferimento è quello del cotto lento e questo ha fatto sì che siamo diventati un'impresa a livello internazionale perché abbiamo al momento ovviamente solo in Italia abbiamo la nostra sezione ma nel giro di quest'anno apriremo anche in Francia e anche in Spagna sul modello proprio del coinvolgimento dei ragazzi con disabilità, in particolare con problemi di autismo ma in generale di disabilità. Perché? Perché la dignità delle persone ancora di più dopo questo anno di Covid è la soluzione. Cioè davvero il renderci conto che siamo tutti su questa terra e cerchiamo in qualche modo di balcamenarci. L'idea che fino adesso ci ha portato, cioè Morstua, Vitamea, evidentemente non funziona. C'è qualche cos'altro e anche noi nel nostro piccolo proviamo a portarla avanti. Quindi dal prossimo anno il nostro sogno è diventare, avere il coraggio di essere uguali agli altri e non è così semplice. È un libro davvero nato appunto non con l'ambizione di insegnare ma di incoraggiare. E non ricordo se Gian Antonio Stella lo scrive nella prefazione o l'ha scritto su un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. Fa davvero un elenco delle tante realtà, una su tutte che mi viene in mente, il tortellante di Modena e tante altre che fanno davvero inserimento di ragazzi con fragilità. Storie possibili come mi piace definirle. Don Andrea vi auguriamo davvero di sconfinare anche oltre Europa perché no, insomma non vi manca nulla. Ricordo il titolo del libro scritto con Marco Ferrando, giornalista ed economista. Il coraggio di essere uguali, l'impresa diversamente automatica di Chico Cotto, edizioni Terra Santa. Grazie a Don Andrea Bonsignori per essere stato con noi, grazie per questa lezione di vita che hai voluto condividere con noi oggi. Grazie a voi, la lezione però non è mia, è quella dei nostri ragazzi di Giuseppe Cottorengo. Grazie a tutti.